Giornata meravigliosa sulle nevi di Courmayère, che sciate, ma soprattutto abbiamo terminato al Pampard di Dolonne. Il nostro viaggio di ritorno a bordo del nuovo Sportage Kia motorizzato mid-hybrid sarà sicuramente una sorpresa come lo è stato finora. Le motorizzazioni? Mid-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e soprattutto a breve, dicono dalla casa coreana, avremo una motorizzazione GPL per completare la gara.